Buonasera, ci troviamo al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile in località Lugarà a Condofuri Marina dove l'Associazione Volontariato di Protezione Civile Stella Maris, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Condofuri ha presentato il libro Andrangheta e accanto a me l'editore Paolo Falzea. Buonasera. Innanzitutto complimenti per il libro, come mai ha scelto di pubblicarlo? Ringrazio per i complimenti, mi auguro nascano da un'attenta lettura del libro i motivi sono motivi semplici che sono insiti nel lavoro di un editore c'è quello di intercettare degli autori nuovi che possano raccontare, testimoniare delle cose nuove, inedite per il pubblico e quindi creare un prodotto che possa far nascere l'attenzione della gente sui fenomeni che lo stesso prodotto descrive, sia questo un romanzo di narrativa oppure un saggio di attualità come può essere questo di cui stiamo parlando oggi. Rispetto agli altri libri in cui si parla di mafia, questo cos'ha diverso? Ma è uno spaccato critico in cui viene analizzato a fondo un periodo determinante per comprendere quello che è il fenomeno dell'andrangheta che il nostro territorio subisce. E' un'attenta analisi perché? Perché vengono innanzitutto, nel libro sono contenute delle importanti testimonianze di professionisti, di uomini dello Stato che a scapito della loro vita, della loro serenità e al di fuori di ogni tipo di riflettore hanno contrastato veramente il fenomeno dell'andrangheta non per fini né carrieristici né di mera pubblicità. Quindi la prima cosa che ci tengo a sottolineare è questa. La seconda è quella che viene fatta un'analisi puntuale di documentazione giudiziaria mi riferisco a importanti sentenze che sono state un po' delle pietre miliari per quella che poi indirettamente è diventata la normativa e la legislazione antimafia. Mi riferisco a delle sentenze importanti emesse dal Tribunale di Locri o in seguito dal Tribunale di Reggio Calabria sulla scorta delle quali è nata poi tutta quella serie di intuizioni per portare all'istituzione del 416 bis che è un punto importante, anche quello di contrasto dal punto di vista giudiziario. Detto questo, anche una parte che cito per ultimo ma non sicuramente per importanza è tutta una serie di narrazioni relative ai fatti realmente accaduti nel periodo dei sequestri di persone in cui tantissime vittime, soprattutto nel nostro territorio cosa che fino ad oggi è forse stata un po' messa da parte forse perché magari c'è stato qualche sequestro più eccellente perché veniva appunto sequestrato il figlio dell'industriale del nord che non so per quale motivo poteva assumere un'attenzione maggiore rispetto al figlio di un industriale o di un commerciante del sud della Calabria. L'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che nel libro viene anche detta in maniera molto vigorosa è quella che per tutte le vittime dei sequestri molta gente si è impegnata a chiedere il riconoscimento dello stato di vittime della mafia per questi soggetti ma che ad oggi sono state delle richieste alle quali non è arrivata alcuna risposta è uno stato che si definisce vicino, democratico, civile vicino appunto al cittadino questo non dovrebbe più accadere. Sicuramente sono delle incongruenze che tuttora ritroviamo. Sì, sono un po' quelle che molti magari tecnici possono definire le falle del sistema Io non sono un tecnico, sono solamente un imprenditore un operatore culturale e un cittadino che però vede spesso e volentieri quegli attimi anche di stanchezza dello stato nel contrasto a questi tipi di fenomeni e questo non dovrebbe mai avvenire ma questo naturalmente per il bene di tutti per la serenità di tutti. Nel libro si fa un'analisi degli accadimenti dell'andrangheta, del passato il messaggio che si vuole trasmettere ai giovani? Il messaggio che si vuole trasmettere ai giovani è soprattutto l'informazione e la consapevolezza di quello che è stato e sulle ceneri del passato è il fenomeno di questo tipo di criminalità cioè quanto è riuscito a tarpare le ali ad una terra, alla crescita di una terra e quindi fare in modo che ci sia un riscatto un risveglio da parte soprattutto dei giovani che non sono assuefatti ancora forse a questo tipo di fenomeno e quindi forse ai quali ci sentiamo di affidare il nostro futuro. Ringrazio l'editore Paolo Falzea e alla prossima. Grazie a voi.